Salve a tutti amici, sono sempre io, ricercatore Emiliano Babilonia, sto qui con una grande donna, dopo si presenterà da sola e stiamo preparando l'evento del 15 ottobre 2017, Misteri del terzo millennio, dove la fantascienza diventa scienza. Questo evento lo stiamo preparando al centro commerciale Casetta Mattei Roma, via dei Sampieri numero 92. Voglio ricordare a tutte le persone che vedranno questo video che è un evento totalmente gratuito che inizierà alle ore 15 e finirà verso le ore 19 e 30. Adesso passo il microfono alla mia amica, organizzatrice anche dell'evento, che spiegherà tutti i relatori che saranno presenti a questo evento. Buongiorno a tutti, sono Iosef Andreu Gallo e adesso parleremo dei relatori della conferenza del 15 ottobre. Qui come prima persona abbiamo Ivan Ceci, giornalista, scrittore e ricercatore. se vogliamo approfondire, Ivan Ceci è nato a Roma nel 1978, ha compiuto studi di filologia e letteratura medievale e umanistica presso l'Università della Sapienza di Roma. Come ricercatore indipendente si occupa da quasi vent'anni di temi legati all'ufologia e in particolare al fenomeno del contattismo. Alla ricerca e alla scrittura accompagna un'intensa attività di divulgazione delle tematiche ufologiche, partecipando ogni anno a numerose conferenze di livello nazionale e intervenendo regolarmente a trasmissioni radio e tv. Poi abbiamo un altro relatore, un ufologo ricercatore, Dario Del Buono. Dario Del Buono nasce a Roma, fin dall'infanzia vivrà l'influenza della personalità paterna e ne segue le sue orme sul fenomeno ufologico italiano. Dario fa ricerca e si relaziona in maniera costruttiva e solidale con altri ricercatori, conosciuti nello stesso campo ufologico. E' frequente ospite alle conferenze, programmi televisivi, eventi, inoltre gradito relatore. Poi c'è Raffaele Cavaliere, psicologo, scrittore e ricercatore. Raffaele Cavaliere è famoso psicologo, libero professionista, ricercatore, psicoterapeuta, propone tecniche di rilassamento ipnosi, regressiva, scrittore di numerosi libri di cui il manuale di costellazioni familiari, attivo anche nella vita politica. E poi abbiamo il nostro carissimo Emiliano Babilonia. ricercatore e tecnico dell'evento. Emiliano Babilonia, ricercatore indipendente di tecnologie e fenomeni inspiegabili, inventore, studioso dell'occulto, UFO, fantasmi, cerchi nel grano, sfere di luce, alte tecnologie, studioso di geoingegneria, ARP, satelliti spia, alte tecnologie con scan 3D biometrici, strategie tattiche e tecnologiche per la difesa, esperto di sistemi avanzati web e tanto tanto altro. Questo si svolgerà al centro commerciale Casetta Mattei in via Sempieri numero 92. Vediamo adesso se il nostro carissimo ci vuole dire qualche cosa dal momento che c'è questa conferenza e abbiamo questi relatori. Vediamo che cosa consigli agli spettatori, Emiliano? Allora, abbiamo cercato di unire per questo primo evento molti relatori importanti e famosi. Ovviamente questa sarà una serie di eventi che faremo una volta al mese, ogni 15 del mese, però dovrà avvenire sempre di giorno, ovviamente sarà sempre di domenica. i misteri del terzo millennio prende una sorta di scienza e fantascienza nello stesso contesto perché opera a 360 gradi. Cioè noi possiamo far venire dei relatori che parleranno di tecnologie, fenomeni spiegabili, ufologie, controllo mentale, per poter prendere una fascia di prevenzione persone che opera nel campo proprio del paranormale, nel campo del controllo mentale, nel campo delle malattie psicotroniche o malattie psicologiche derivanti a queste tecnologie di controllo mentale. Si parlerà di scie chimiche, si parlerà di ARP, si parlerà di MOS, si parlerà di satelie di spia, tecnologie di spionaggio, tutto quello che è una sorta di fenomeno inspiegabile. infatti i misteri del terzo millennio ingloba proprio tutto questo. Vi ricordo ancora 15 ottobre 2017 alle ore 15 fino alle ore 19.30, evento totalmente gratuito al centro commerciale di casetta Mattei. Vi aspetto a tutti amici. E così stiamo insieme. Stiamo insieme tutti quanti, poi possiamo parlare tutti quanti insieme, possiamo dialogare anche con i vari relatori e vari ricercatori perché verranno anche degli ospiti a sorpresa durante l'evento, ospiti che saranno pure presenti all'interno della sala in modo che possiamo creare un punto di ritrovo per parlare di tutto ciò che è fenomeni paranormali, inquinamento elettromagnetico, controllo mentale, ARP, vaccini, scie chimiche, tutto quello che sta praticamente creando danni e disturbi alla popolazione nazionale italiana e popolazione per adesso vi saluto a tutti. Emiliano Babilonia vi aspetta il 15 ottobre 2017. Allora un saluto anche da parte di amici. Vi aspetto con Emiliano Babilonia e Josefa Andreu Gallo. Ciao a tutti. Grazie.